minchia che culo aspetta e questa è bella salvo io sto portando il secondo bisogna vedere poi se funziona perché poi magari se il mito di qui non funzionano funzionano solo aspetta che ho visto una figata assurda mi fa paura cazzo quando il sito visto che sia arrivata prima non l'hai vista la scena no sto andando al garage adesso quello nuovo vado a vedere vado a vedere una macchina adesso mi compro anche io quello dell'initale anzi prima vi do se se ho delle cose per il milione e cento cento e cinque minchia no 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 che fai che fai che fai che fai Speed . Aspetta . . Allora